Sulla richiesta di processo avanzata dalla procura nei confronti dell'ormai ex sindaco di Erchie Pasquale Nicolì, degli altrettanto ex assessori e della fondatore del festival Legalitria, deciderà il GUP Simone Orazio il prossimo 7 maggio. Il giudice per l'udienza preliminare ha già ammesso otto parti civili, tra cui il comune di Erchie, che dopo le dimissioni rassegnate il 2 febbraio scorso da Nicolì è guidato dal commissario prefettizio Antonio Giaccari. Nicolì è accusato di concussione, abuso d'ufficio, falsità ideologica, induzione a dare atti persecutori nei confronti di un ex funzionario comunale, accuse con le quali finì ai domiciliari il 9 gennaio scorso e tornò in libertà due mesi più tardi, una volta diventate definitive le dimissioni. Nell'atto di costituzione di parte civile del comune di Erchie presentato dall'avvocato Pasquale Annicchiarico, le condotte contestate all'ex primo cittadino che venne eletto il 22 settembre 2020, sono state ritenute tali da configurare un danno all'immagine dell'amministrazione cittadina. Il penalista ha quantificato la somma chiudendo il conto a 200.000 euro. Nicolì dal canto suo, difeso dall'avvocato Egidio Albanese, ha sempre rivendicato la propria correttezza e lo stesso hanno fatto tutti gli altri indagati per i quali il PM ha chiesto il rinvio a giudizio. Sono accusati di abuso d'ufficio e falsità materiale l'ex sindaco Vincenzo Polito e gli ex assessori Pamela Melechi, Lina Ferrara e Vito Oronzo Bernardi. Quest'ultimo è accusato anche di violenza sessuale e i danni di una ragazza che all'epoca svolgeva il servizio civile. La giovane si è costituita parte civile. Il sociologo Leonardo Palmisano, fondatore del festival Nato per promuovere la lettura contro la devianza e la criminalità, è accusato di concorso anomalo in concussione nell'affidamento alla copra di Cifuture, di cui è legale rappresentante della gestione della biblioteca comunale.